Ciao a tutti, oggi prepareremo il pesto ai carciofi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono aglio, prezzemolo, capperi, pomodori secchi sott'olio, cuori di carciofo sott'olio e olio. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo, i capperi, il mezzo spicchio d'aglio senza anima, i cuori di carciofo sott'olio e i pomodori secchi ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Il pesto è pronto, trasferiamolo in un contenitore. Pesto ai carciofi, ideale come condimento per la pasta o per guarnire dei crostini. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!